Signorina fratella Aspetta 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 Mio Io ho rubato il tattico Ehi sono Passox e ben ritrovati in questo nuovissimo video Oggi il video di fingerci o in questo caso io mi fingo il boss, il nuovissimo boss di Predator E' appena uscito fresco fresco quindi tantissime persone ci cascheranno Come al solito ripeto questo tipo di video noi riproviamo, riproviamo e riproviamo Perché ovviamente c'è chi ci casca e chi non Ma prima di vedere questo video ricordate CODICE Inserisci il codice Passox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove stories Nooo vado via Vado via No aspetta No 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 Aspetta Ma che sembri Ma che sembri una bella signora da lontano Eee salve fratello Ma non parla cos'è il Predator Così fa brrrr Eee questa è mia nonna che cade Non farlo Non farlo Sento la musica ma non Ma sento E' qua E' qua Arriva 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 Scappa 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 Lo vedo Lo perso Non lo vedo più Cospito cospito Dov'è 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 Ma chi è che paura Pensavo fossi tu pensavo Che carino Missione Predator Avviata Voi state nascosti Eh state nascosti Non mi ha visto Non mi ha visto Buonasera buonasera Vado via Aspetta Vado via Vado via Vado via Ma forse è vero Io sono da Io sono da La signorina Alexa di solito Lui stiamo sparando a un tipo A un altro tipo Va bene Va bene Ma io posso costruire Mentre sono invisibile No non puoi No Non puoi Ci sono dell'effetto Aiuto ho fatto una cavolata Volevo Volevo prendermi il tizio Però non l'ho preso Aiuto Sto arrivando Sto arrivando L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Mamma mia Mi ha visto No No Signorina fratella Ma io la ringrazio Dolcemente Vada Adiana devi ringerti Piano piano Aspetta 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 Che profitto qua Sto cercando di aprire Una casa Aspetta 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 Mio Io ho rubato il tattico Non mi ha visto Non mi ha visto Non mi ha visto Non mi ha visto Aspetta 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 No si è mangiato il pesce Maledetto No Come di prendere le armi Sto andando da manzo Sono non da manzo Occhio E hanno parto Ah le armi Uh c'è la cura lì C'è la cura proprio qui Mi sta sparando Mi sta sparando Mi sa Aviamo Son Aspetta loro ragazzi ma se non mi vede non mi vede no non sono parlando a me no a mia vita ha visto mia vita ha visto sì mi ha visto sì sempre gentile bella brava visto gualti e tu e tu senza maschera e tu brava visto adesso visto angel visto come gentile lui è bravo e bello è mamma mia se ne accorto se ne accorto forse no no non se ne accorto non se ne accorto stupido gennatore no mi sta scadendo l'invisibilità dura troppo poco questa cosa dove state mi mancano 9 secondi buonasera ma c'è qualcuno ovvero avete colpi pompa avete colpi pompa per sicurezza grazie gentilissimi mamma mia quanto siete brutti però posso dirvelo occhio 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 momento invisibile un'aura penso sia un'aura a me il tizio di prima mi sa che il tizio acqua c'è l'ultimo sopravvissuto i limiti qua no io non c'è gomica quello viena manca la sua l'ora eh sì 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 sto fermo non mi ha visto non mi ha visto meno male questa cosa è un bene raga mancano gli ultimi perfetto dai che la vinciamo ottimo aspetta vediamo voglio voglio trollarli un pochino aspetta la 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 non posso cantare un po' bravo edita buon signore edita sto arrivando sto arrivando sto arrivando sto arrivando sto arrivando sono confetti eh non sento la musica mi ha visto no mi ha visto mi ha visto ma fa lì fa lì scontrare fa lì scontrare chi se ne prega ma sono insieme eh genna no no sono contro sono contro no sono insieme sono insieme guarda insieme o no occhio occhio bravissimi penso io l'ultimo penso io l'ultimo non maschio ultimo vada vada dove va doveva doveva aspetta 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 incitante questo incontro sono con lui sono con lui dove va dove va ci penso io ci penso io buonasera bravi fratelli che dire pazzo di spero che questo video vi sia piaciuto vi giuro non sapete quante volte abbiamo provato a fare questo tipo di video perché poche persone si cascavano e tipo il secondo giorno che ci proviamo spero che questo video vi sia piaciuto fateci sapere voleste altri tipo di video simili con altri npc o altri boss inventati fateci sapere qua sotto nei commenti noi come al solito ci vediamo con dolcissimo e carnissimo ho paura siamo a frecce nello spazio passi come pazzo storie senza tempo risuono nel vento passami una storia dai pro bananite dolce lo so frecce nello spazio passi come pazzo storie senza tempo finisco nel mio lampo passami una storia dai pro